Lorenzo Genovesi Buonasera a tutti, mi chiamo Lorenzo Genovesi, ho 22 anni, quasi 23 e io sono laureato ad Agraria, mi sono laureato a Ottobre, tuttora frequento la laurea magistrale e diciamo che vedo la candidatura in quartiere come il proseguimento naturale di quello che è stato il mio impegno in questi anni all'interno del circo, del quartiere o della federazione di Bologna o anche semplicemente alle numerose e lunghissime feste dell'unità locali io vedo la mia persona come una professionalità diciamo necessaria all'interno di un quartiere mi spiego, l'agronomo è una persona che per definizione è una persona che conosce il territorio e se non conosce il territorio è una persona che impara a conoscere il territorio e a mettere insieme quelle che sono le varie anime, i vari pezzi che lo compongono analizzando nei componenti le fragilità e anche i punti di forza valorizzando naturalmente quindi vedo il mio impegno concentrato su quella che è la valorizzazione delle numerose e pregevoli aree verdi del quartiere penso ai giardini Margherita, Lunetta Gamberini, Villa Ghigi e altri parchi che sono abbondanti sul nostro territorio ma chi mi conosce lo sa bene e chi non mi conosce lo ribadisco qua ci tengo molto a quello che è il fattore visibilità, il fattore decoro della nostra città e qui ci tengo appunto a rimarcare questo mio interesse e questo mio impegno vi ringrazio